Buonasera a tutti, tanto saluto Genova con grande calore, città che mi ha adottato e che mi ha fatto stare benissimo. Il fatto che ancora qualcuno mi contatti per così parlare con voi del passato, questo è un enorme piacere per me. In questo caso vorrei ricordare una cosa simpatica, visto che stiamo passando tutti un momento un po' particolare, del nostro massaggiatore Gerolomo Craviotto. Bene, eravamo a Reggello, come sapete una volta c'era molta corsa continua intorno al campo, sulla pista, era dura, era caldo, facevamo fatica. Il nostro massaggiatore si era messo ai bordi della pista, aveva fatto un mucchio di sassolini e ogni volta che noi passavamo, scherzando, ne buttava via uno facendo proprio questo gesto e via uno ragazzi e due ragazzi ogni volta che passavamo. E noi dicevamo, guarda Craviotto Geo, per come lo chiamavamo affettuosamente noi, non la passerai certamente liscia. Bene, finito l'allenamento, con una scusa lo chiamiamo fuori, facendo finta che un nostro compagno si fosse fatto male, venne fuori, lo chiudemmo nello stadio, avevamo in quel periodo romano che aveva una storia con Ambra Orfei e quindi dicevamo sempre che a fine carriera avrebbe fatto il gladiatore con l'enorme fisico che aveva nel circo. Bene, si mise la rete dei palloni dentro nel collo, prese una di quelle corde che serviva per saltare e cominciò a dire fuori i leoni, quindi era lui, faceva il gladiatore contro il nostro massaggiatore. Il nostro massaggiatore che scappava per il campo, era umano che pensavamo scherzate ma gliele dava davvero, gli dava delle frustate, noi tutti a ridere così, Geo impari a fare il furbo. Bene, voglio raccontare questo piccolo piacevole per ricordare una persona a noi tutta cara, saluto con un grandissimo forza Genova e un statemi bene tutti ai genovesi, grazie, buonasera a tutti.